Scena da Far West, ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Due killer hanno sparato a due uomini, entrambi con precedenti penali, uccidendone uno e ferendone gravemente l'amico, poi deceduto nella notte in ospedale. Si tratta del secondo agguato in meno di sei giorni avvenuto nel capoluogo partenopeo. Le vittime sono Gennaro Castaldi, di vent'anni, morto durante la sparatoria in via Toscanini, e Antonio Manichini, di 19 anni, deceduto nella notte nell'ospedale Loreto Mare. I due sono stati sorpresi nell'agguato dai due killer giunti a bordo di una moto, da cui hanno sparato numerosi colpi di pistola calibro 9. Castaldi aveva precedenti per estorsione aggravata dal metodo camorristico Manichini per rapina. Castaldi era stato arrestato dai carabinieri nel settembre dello scorso anno. Secondo l'accusa, insieme ad altre due persone per conto del clan Sarno, avrebbe chiesto il pizzo dai commercianti di un mercato rionale nel rione Incis del quartiere Ponticelli. Con l'agguato di ieri sera sale a tre il numero dei morti negli ultimi sette giorni a Napoli. Lo scorso 23 gennaio, nel quartiere Barra, in un agguato di matrice camorristica, è stato ucciso Ciro Valda, di 34 anni, ritenuto affiliato al clan Cuccaro Aprea.